Let's play Ciao piccolino Ciao piccolino Non mi leccare in faccia Si chiama Artù Momento coccolosaggine Sei giù E proveremo A giocare con lui Non mi mordere Artù Ragazzi penso che sarà impossibile Perché cerca di mangiarmi Il filo della cuffia Mi inquadro un attimo più giù Dovreste vedere Artù ti prendi tante di quelle mazzate E sarà un po' difficile Non lo so se riuscirò a finire il video con lui Ciao Artù Aiuto Salvatemi Ok ragazzi fatemi sapere con tanti like E scrivetevi nei commenti Hashtag viva Artù Se volete rivederemo questo cucciolino Bello bellino Potrei addirittura farvi Un video apposta con lui Ma quanto sei carino Ma quanto sei carino Ma quanto sei carino Io ve lo vorrei far vedere da vicino Se si sta un attimo fermo Ciao piccolo Ma guardalo Ciao piccolino Ti stai combinando? Eh? Eh? Ma quanto sei bello Ma quanto sei... Ci saluta i nostri squali e pescioli Ehi Artù Artù L'unico problemino Non so se l'avete intuito insomma È che Diciamo Sono su una sedia E lui è un cagnolino di Grosso così Ve lo faccio vedere per intero Se riesco Ciao Guarda Guarda quanto è piccolo Guarda quanto è piccolo Eh sì Eh sì Ma che cosa è convinto Guarda quanto è cornuto Ed è un piccolo mamid Che voglio dire Fa tanti scherzi E fa tanti dispetti Per cui se mi cade dalla sedia Si fa un po' tanto malo Tanto malo Quindi Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ehm Per cui cercheremo di andare avanti Nella storia Con Artù in braccio Ma penso che lo toglierò No ragazzi lo tolgo Se no il video Verrà una vera merda Infatti lui vuole anche scendere ora E Ci vediamo Ci vediamo dentro al video Spolliciate Se volete rivedere Artù Scrivetelo nei commenti Ok squalipecelini Minchiate a parte Possiamo iniziare la nostra avventura Io dovrei andare avanti un po' nella storia Infatti devo catturare tre Pokémon Della Route 11 E Vi devo far vedere anche come è ben messa la mia squadra Perché sono uscito ad ottenere Eh Parecchi Pokémon di grado No Tutti grado Eh Più due Forse tranne uno E Eh Ho il Charizard Che è di grado Viola Vi faccio vedere un attimo la mia squadra Prima di cominciare Dov'è Poké Center Che sta combinando No Praticamente il maledetto Aveva preso da dentro uno dei miei bussolotti Che stanno qui Nei mobili di camera mia Aveva preso un pacchetto Un pacchettino Una custodia con gli occhiali da sole Se l'era portato così sulla sua cuccia Il problema è che c'ha il filo Poi inizia a strozzarsi A fare le minchiate E devo dire che non è il caso Dove stai? Sta qua Bravo Rimani qui Gioca Gioca Bello Allora Quindi ci abbiamo Charizard Anche Strength 2 Quindi addirittura Viola Poi c'è Geridos Più uno Che lo stiamo portando Al più due Alla casa Più due Bellosso Ehi Non giocare Gioca con la tenda Scusate ragazzi Questo è il video con Artù E un po' di Cacciara Insomma La prossima volta Ma mi sa che lo farò uscire di qua Poi ci abbiamo Shiny Weevil E Reparior Quindi l'unico che mi manca Da portare a più due È il nostro Geridos Io intanto se sono distratto È perché sto tenendo d'occhio Che combina Quel pazzoide Ok E mi mancano alcuni contratti Artbook di Craticate Ne mancano esattamente sette E tre di Pikachu Quindi in teoria è fattibile Sicuramente oggi portarlo Anche lui a più due Dopodichè cominceremo Pian piano Durante la settimana prossima A portare tutti A Viola Insomma Bene Detto questo Io Che altro Ah ok No Ma questo l'ho preso No non posso più prenderlo E che cazzo mi metti ancora il puntino Ah Dannazione Ok Andiamo avanti con la storia Dobbiamo catturare tre Pokémon Della Route 11 E E si prosegue Vi è piaciuto La La Come si chiama Il video su come far diventare Dragonite Per PvP Se volete altri video del genere Scrivetemelo nei commenti Se ha fatto la pipì lo ammazzo Scrivetemelo nei commenti E io vi preparo su altri Pokémon Dei video di quel tipo Ok Ho riposto il mio Pokémon Reale Nella sua cuccia Perché se no ragazzi Era impossibile Non riuscivo per niente A concentrarmi per fare il video Quindi Quindi Possiamo andare Alla ricerca di tre Pokémon Di questa zona Allora Vediamo un attimo Come siamo messi qui Nel Regional Pokédex Io ho cinque Pokémon Su 8 Quindi quelli che mi mancano Sono Hitmontop Drosy Raidon ce l'ho E Hitmontop Drosy E chi altro Raidon ce l'ho Allora Hitmontop Sono rincoglionito Fatemi capire Si sembra che mi manca Raidon Però non ha molto senso Perché io Avendo Riperior Dovrei avercelo avuto Cioè l'ho fatto evolvere In Raidon Comunque Allora Voglio sperimentare Una tattica Però magari Poi ve la spiego meglio In un prossimo video Di come catturare i Pokémon Quindi non li addormenterò Non farò una beniamata Ceppa Semplicemente Li Li sparo delle Pokéball Con un Basta Un determinato Meccanismo Quindi ora proverò A Utilizzare questa tattica Che proviamo a catturare Hitmontop E Drowsy Ok Son pronto Per il primo Pokémon Vediamo chi viene fuori Ok Sto Dailybeard Della Straminchia Quindi io ti metto Geridos Perché non me ne frega Una beniamata Ceppa E ti massacro Ecco Hitmontop Allora In base Alla teoria Che mi avete scritto voi Poi vi svelerò tutto Proviamo Questo è un grado B Quindi Dovrei riuscire A catturarlo Se riesco ad addormentarlo Si è addormentato Vero No Non si è addormentato Questo è un grande problema Va bene Però anche senza dormire Allora Contro di lui Ci mettiamo Questo è il problema Che me lo potrebbe Shottare Proviamoci Vediamo se mi funziona La cosa Ecco Me lo shot Allora Vediamo un po' Pokéball No Si Le Megapall Non ne ho Ho le Gritball Vediamo se funziona uguale Questa teoria Allora io provo Senza aver fatto nulla A tirargli delle Gritball In teoria Con Tre Gritball Dovrei riuscire A catturarlo Poi vi spiego anche Il motivo In un altro video Però Vediamo innanzitutto Se in questo video Riesco a fare Questa cosa Senza grossi problemi Insomma Ok Proviamo E' il cazzo Che ci riesco Perché mi ha ucciso Il Pokémon Non posso fare un cazzo In questo modo Oh Dannazione Maledizione Maledetta Proviamo l'ultima Ehm Il problema Che non è proprio Come doveva andare Quindi forse Non funziona Questa cosa Perché dovrei utilizzare Dei Pokémon Che addormentano Veramente No Stai merdine Qui Dannazione Con questo cazzo Di Pokémon E' veramente Rotto Non mi fate dire La parolaccetta Porca miseria Mi sta shottando Tutti Ehm Ok Ok Mi sta shottando Letteralmente tutti Va bene Allora io provo Che ti devo dire Con Riperio Le proviamo Di Ultraball Andiamo di Ultraball Perché in teoria Con le Ultraball Ce ne vorrebbero Dovrebbero volere Ancora di meno Quindi vediamo Magari funziona Dai Non mi fate ritrovare Litmond Uuuu Asa Senza averlo addormentato Senza aver fatto Una bene amata Ceppa Interessante Ehm Però la teoria Proprio non funziona Proprio come Speravo Ma perché non sono riuscito Io con Jigglypuff Ad addormentare Il Pokémon Del cavolo Solo per quello E non aveva molta Resistenza Jigglypuff Per potercela fare Quindi proviamo A fare una cosa Io ti tolgo E ti metto Clefari Che magari Riesce ad addormentare Un attimino in più E ci riproviamo Con un altro Pokémon Ecco Drosy Ragazzi Secondo tentativo Proviamo ad addormentarlo E in questo caso Contro Drosy Eh però Mi deve funzionare L'addormentamento Ma che stiamo scherzando Ma sti Pokémon Pacchi che non addormentano Manco mia nonna Che già dorme E che cavolo Ma veramente Stai facendo Non mi hai No vabbè Ma stiamo scherzando Vabbè comunque Contro Drosy Dovrei utilizzare Alakazam E anche andando Solo di Grit Ball Dovrei riuscire In poche mosse A catturarlo Perché è inutile Sprecare per un grado Di delle Ultra Ball Vediamo un po' Se funziona la mia teoria Quindi questa Contiamola insieme Questa è la prima Seconda Grit Ball Terza Grit Ball Vediamo un po' Che cosa succede Alla terza Olle Preso con tre Grit Ball Senza fargli Niente Anche perché I miei Pokémon Che addormentano Falliscono Alla velocità della luce Anzi Fatemi sapere nei commenti Che Pokémon consigliate Per addormentare I Pokémon avversari Ah Avevo anche Aspetta Ne ho un altro Che potrei utilizzare Perché Questi mi stanno facendo Veramente cagare Vabbè Ti curo Giusto perché Non ti voglio avere Sulla coscienza Se mi muori Nell'inventario Story in PC Niente ragazzi Ho provato Ad allenare Un Parasect A livello 22 Perché ho visto Insomma sulla wiki Dei Pokémon Che al 22 Impara Spore In inglese Spora In italiano Insomma una mossa Che addormenta Al 100% L'avversario Ma Non funziona E quindi Ci attacchiamo A sta gran Ceppa Ok L'ultimo Pokémon Che ci manca Da catturare Penso che sia proprio Raidon Per Raidon Dovrebbe entrare Con due Ultra Ball Vediamo un po' Se funziona La prima va Nel cesso Ecco la seconda Dove Dovrebbe Entrare Vediamo un po' Che cosa succede Artù No non è entrato Un cazzo È Dannazione La terza Artù Che pre Madonna Ok Alla terza Ultra Ball È entrato Quindi Magari ci siamo Sbagliati di una Però Potrebbe essere Una teoria valida Però io Mi sono staccato Insomma Di consumare Ultra Ball Attendiamo solo Raidon Devo dirvi che Nel mentre Cercavo Questo Raidon Selvatico Il mio Geridos È arrivato A livello 40 E ha imparato Idropompa Una mossa Decisamente Carina Che Insieme Vedete Gli ha fatto 130 di danno Se Potenziassi Ancora un po' Il mio Geridos Dovrebbe fare Addirittura Più di Dragonrage Che come ben sappiamo Più di 200 Non può fare Comunque continuo la ricerca Del Raidon Ok Sono un pirla Lo ammetto Sono un pirla Stavo cercando Sto benedetto Raidon Da un'ora e mezza Tant'è che Guardate a quanto Sono arrivato 31 SP Da 100 Li ho consumati tutti E ora vado a scoprire Che Raidon Si trova solo Tra le 12 E le 14 Paffaffa culo Paffaffa culo Cioè E porca Di quella paletta In pratica Significa Che se ora Sul server Sono le 16 A 7 Dovremmo Andare Da 3 A 5 Ore Fa Significa Tra le 5 E tra le 6 E le 8 Di mattina Ma col cazzo Che mi metta Le 8 Di mattina A cercare Raidon Ma voi Che c'ha Mettere il cervello L'acqua fresca Impandanata Comunque Andiamo a completare Questa route Perché i 3 Pokémon Ne abbiamo catturati Mi sono fatto Una scorta Di Hitmontop E a questo punto Mi scelgo anche Uno degli Hitmontop Uno dei migliori Gli altri Li scambio tutti Ok Andiamo nella nuova città Quindi dovremmo Sbloccare la nuova palestra This is a GGGG Le palestre sono quelle Che ci danno Le sferette Per lo strength La cosa che voglio capire E se ora Nella nuova palestra In pratica Ci danno per caso Più sfere Non so se È una cosa possibile Non credo Perché Avendo giocato Con l'account di Jackdown Che è molto più alto di me Quindi sicuro È andato in un'altra In un'altra palestra Non gli davano più sfere Quindi Non penso che cambi Ma penso che L'unica differenza Sarà che Ti sbloccano Altre tipologie di sfere Quindi magari Alcuni tipi Ora non li riusciamo a trovare Mentre Andando avanti Con le palestre Sì Correggetemi Sto detto Una grandissima minchiata Devo trovare Un fanfi E ce l'ho Ce ne ho Ce ne ho 8 Ce ne è che Te la devo regalare E pigliatelo Ah va un culo Mi ha fottuto Belt Zane Black Belt Zane Che cacchio significa E non sto leggendo molto Le quest Comunque Gli ho dovuto regalare Un fanfi Vabbè Male che vada Ne prenderò un altro E che cosa Ma vuoi Dobbiamo combattere Cattura 4 pokemon Di qualsiasi tipo Sulla route 10 Ma state scherzando Ma mi sto Sfracassando i maroni A catturare pokemon Tra l'altro La route 10 Mi pare che l'ho pure Completata Ma che due coglioni E comunque Non è giusto Perché Io con Reperior Sono sicuro Di aver Anche Sbloccato Raidon Perché Non me lo ha Sbloccato Nel pokédex O meglio Nelle route Sei un gran pezzo Di merda Sei un gran pezzo Di merda Gioco Grandissimo Allora Qui dentro Che pokemon Posso trovare Gli ho completati Gli ho completati 6 su 7 No Mi manca Nidoquin Che si può trovare Solo tra Le 16 E le 18 Ah Interessante Interessante E il momento Per trovare Nidoquin Vediamo se siamo fortunati E vediamo se riusciamo a catturarlo Eccolo qua signori Ho trovato Nidoquin Fantastico E un grado A Allora Proviamo subito La nostra tecnica Se non mi muore Il clefari E addormentati Per favore Benissimo Ora andiamo Di Hitmontop Che ne ho catturato Una marea Quindi Semplicemente Anche se mi muore Uno Cambia pokemon Chi se ne frega Non voglio usare Le ultra ball Andiamo di Grit ball E contiamole Questa è la prima Vi velocizzo un attimo La cosa Vi taglio dei pezzi E vi dico A quanto siamo arrivati Di grit ball Siamo alla Grit ball Numero 8 Ho perso Fin a mo' Un solo Hitmontop Vediamo se va No non è Ancora entrato Proviamo La numero 9 Ragazzi Numero 9 Grit ball Però io non ho fatto Per niente sforzi Per Per diciamo Passare la vita Mosse particolari Numero 9 Grit ball Ultima Numero 10 Perché secondo me Con 10 Grit ball Entra Sto maledetto Semplicemente Addormentato Con i giusti Pokemon Niente Ancora 10 No Andiamo avanti Ho le 17 Grit ball Ok Sono tante E' vero Non sono proprio poche Però ragazzi Pensate un attimo Io ho perso solo 2 Pokemon 2 Hitmontop Ne avevo ben 4 Quindi con un margine Di errore Molto più alto Un semplice Pokemon Che lo addormentava E Se avessi usato Le ultra ball Magari Ce ne avrei messo 10 11 Insomma Ci poteva stare La stessa cosa Funziona anche Con i leggendari Per cui Se volete sapere Come Su cosa si basa Questa tecnica Fatemi sapere Perché Farò un video Apposta Ve la spiegherò Intanto Intanto a Andrew Milari Insomma Il ragazzo Che gioca Sul server Cinese Ti chiedo Gentilmente Di scrivermi In commenti Se ho sbagliato Qualcosa Di quello Che mi dicevi Tu In tal caso Magari Ci sentiamo Su telegram E mi Corregge Un attimo Sugli errori Così Poi facciamo Un video Perfetto E vi spiego Tutto Alla perfezione Detto questo Sono riuscito A catturare E a completare Anche questa zona Quindi ci pigliamo Un altro pezzo Di masterball 10 gritball Che non fanno mai male 5 ultraball Benissimo E poi vorrei andare Nella A fare L'exchange Perché abbiamo Tanti pokemon Di grado b Che possiamo Disparcene Quindi un attimo Solo Che vado Nell'exchange Mi faccio Un attimo Di pulizia Sì Perché vedete Quanti cavoli Di itmothop Quindi ci vediamo Nell'exchange Squali e pesciolini Siete pronti A vedere Che cosa esce Da questo exchange Al 2 itmothop E 2 parasect Exchange Ooooo Sunslash Interessante Un pokemon Davvero interessante Fatemi sapere Tra l'altro Non ve l'ho fatto vedere Quindi datemi Voi il consiglio Il mio Il nido queen Che ho trovato Cosa ne pensate Allora Faccio vedere Un attimo La natura Hardy Quindi non mi da E non mi taglio Un cazzo Le mosse Double kick Scratch Body slam Non sono per niente male I values Sono forte Buono in s attack Un po' di s def Ed attacco Tenete conto Che io sono sfigatissimo Con le nature Fatemi sapere Nei commenti Se possiamo Integrarlo nella squadra Oppure lo mando a cagare E poi Poi Datemi consigli Anche per questi Itmothop Allora Vedete un po' Questo Ha una natura Neutra Le mosse Sono uguali Per tutti Più o meno Qui catapulse In rapid spin Vabbè Ah voglio vedere Un attimo Le evoluzioni Ah questa è L'evoluzione finale Figo Come valori Ha molto L'S attack Un po' Di attacco Questo Mentre l'altro Ha una natura Che mi diminuisce L'attacco Però mi aumenta La speed Può essere interessante E come valori Attacco E special def Un po' di hp Fatemi sapere voi Quale è il migliore Tra i due Perché Itmothop Se ho capito bene Dovrebbe essere Molto focalizzato Sull'S attack E possibilmente Anche sulla speed Quindi Io penso Che questa configurazione Non sia molto buona Piuttosto Sia migliore Questa qui Ma fatemi sapere Comunque Tra i due Detto questo Io vi ringrazio Per aver visto Questo video Fin qui Lasciate un like Commentate Condividete Per sostenere bene Il canale La serie Vi ricordo Fatemi sapere Se volete vedere Di nuovo Artù In un prossimo video E se siete arrivati Fin qui Scrivete nei commenti Hashtag Canepazzo Hashtag Canepazzo Ci vediamo Nel prossimo video Un saluto Ciao Ciao A tutti Ciao 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 Ciao